Iniziale uno che fa gli animi, guardate qua, guardate qua, guardate con i pirulini. Allora, 1, 2, 3, 4 e 5 sono qua, gli altri 5 forse sono là in fondo, andiamo a vedere, venite con me. I pirulini, dobbiamo cercarli 5, giù per di là, visto che non ci sono, saranno per di qua, bello tirare scalzi. Pirulini, piruli, 3, 9, 4, 5 sono lì, vai sono lì, loro che vagano. Non mi cerca di pappa, perché 1, 2, 3, 4 e 5.